Manca solo l'annuncio ormai, ma è una formalità. Parigi ospiterà le Olimpiadi del 2024, quelle per le quali inizialmente era candidata anche Roma. Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato lunedì di aver trovato un accordo con Los Angeles, un'unica città, a sfidare la capitale francese per una doppia assegnazione. Il 13 settembre a Lima verrà annunciato che la Villumière organizzerà i giochi tra sette anni, mentre la città californiana, quelli del 2028. C'è grande emozione a Parigi, che torna a far parlare di sé, come spiega questo ragazzo. Sappiamo che quando le Olimpiadi sono state ospitate in altre città, le strutture sono state poi abbandonate e l'avranno sfruttate nel migliore dei modi, dichiara un altro parigino. Dobbiamo essere sicuri che sia un'erdità che duri, non solo fino al 2024. Entusiasta la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che, come il presidente Emmanuel Macron, ha sempre sostenuto la candidatura. Sia la capitale francese che Los Angeles torneranno quindi ad ospitare la rassegna a cinque cerchi. Per la prima si tratterà della terza volta, quella del centenario tra l'altro, mentre per la città statunitense sarà la seconda occasione. Grazie a tutti.